Musica 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 Ti ho imparato ora che si legnassero? No, 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 ma lui è giovane, quindi... Ma vuol dire che è la possibilità che si legna? Sì, se sono maschi, sì, sì, sì. Ah, se sono maschi, però il maschio è finito. No, no, semplicemente no. Poi adesso, te lo dico, l'amore è finito, ma probabilmente a lui è rimasto un po'... I mani vengo di nuovo a trovare, quando mi metto di lavorare, L'importante è far capire alla gente che gli dai del pane, però quello è difficile fare. No, il pane non vi è riuscita. Eh, non so, bisognava inventergli qualche... Ma non ce l'ho fatto in testi di vera tappata con uccelli? Una volta l'avevo...